Buonasera amici di Jolly Sat, siamo qui con Coach Eliantonio, primo semifilanista delle finali di Coppa Italia nel PDC Direttanti, partita vinta dalla sua Cremona 6-1-4-1 nei confronti della Orva Lugo. Coach, inizio abbastanza attirato, poi subito siete riusciti a ricompattarvi e andare avanti. Sapevamo che giocavamo in un orario abbastanza inconsueto, ovviamente un po' di tensione per i ragazzi c'era perché è una manifestazione a cui tengono tutti e abbiamo fatto come le formichine, un punticino alla volta, poi nel secondo tempo siamo riusciti a scappare via. Terzo quarto micidiale dove la sua Cremona riesce nettamente a imporsi nei confronti di Lugo, cosa è cambiato proprio in questo terzo quarto a rientrare i spogliatori? Ma avevo detto ai ragazzi di lasciarsi un po' andare, di giocare di più in transizione, eravamo un po' bloccati senza ritmo in attacco, la difesa stava andando molto bene e quindi dovevamo un po' sbloccarci in attacco, ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo fatto un break nel terzo periodo come hai detto tu e siamo riusciti a portarlo fino alla fine. Percentuali da tre che migliorano nettamente dopo la vittoria esterna in campionato contro Cantu, quasi il 50% da tre e non è poco. Sì, abbiamo due tiratori abbastanza micidiali che sono Ferrari e Cacciani da tre punti, ovviamente non è che possono tirare sempre benissimo, stasera nel secondo tempo come ho detto ci siamo sbloccati ma ci siamo sbloccati tutti, c'è stato più ritmo in attacco, abbiamo giocato di più in transizione quindi abbiamo trovato tiri più facili. Perfetto, ringraziamo Colce e Antonio in bocca al lupo per il proseguo, auguriamoci di rivederci ancora qui. Arrivederci a tutti.